Salve a tutti signori e benvenuti per la seconda volta alla review dell'Umi Max Ho detto seconda volta perché ho già recensito un telefono che è sostanzialmente identico su tutta la linea Sia per quanto riguarda l'estetica, che per quanto riguarda i materiali, che per quanto riguarda le specifiche Questo smartphone era l'Umi Super che ho recensito diciamo qualche mese fa Francamente non è che fosse tutta sta roba diciamo l'ho salvato per il prezzo Questo Umi Max a parere mio per essere considerato un successore o comunque un dispositivo diverso Doveva come minimo, e dico come minimo, avere un display da 6 pollici oppure avere una batteria raddoppiata Non ho idea di cosa, ma comunque qualcosa di diverso Invece l'unica cosa che cambia, e vi dico proprio l'unica, sono 3 GB di RAM rispetto ai 4 dell'Umi Super Il che mi fa pensare che Umi insomma se ne sbatta un po' della sua linea di telefoni E gli va bene lanciare un telefono identico ad uno che ha già lanciato I materiali sono alluminio sul retro, vetro ovviamente sul davanti Dove figura un display da 5.5 pollici veramente incombrante per quello che occupa Delle bande di diciamo plastica che non sono proprio il massimo dell'estetica E un sensore di imponi digitali sul retro Il vero problema di questo telefono è che oltre ad essere molto incombrante per essere un 5.5 pollici È il fatto che sia molto ma molto pesante Cioè è fastidioso da tenere in tasca e soprattutto da tenere in mano Non ne parlo mai ma devo dire che la vibrazione di questo telefono è decisamente orribile Ed è bruttissima da sentire in mano quindi il mio consiglio è disattivatele al prima possibile Anche se per lo sblocco con l'impronta sembra impossibile farlo I tasti mi hanno dato fastidio perché si muovono tantissimo Cioè sembrano neanche attaccati alla scocca quasi come se si fossero rotti e staccati E fanno un sonetto quando li scuotete decisamente fastidioso Il software è Android Stock Quello che trovate sui Nexus La versione è 6.0 Marshmallow Che dona una certa fluidità sia al dispositivo Però imparagonabile rispetto a quella di altri telefoni Ad esempio Nexus anche più vecchi tipo il Nexus 5 Che secondo me sono decisamente più reattivi Complice forse la suite di Mediatek Perché monta l'Helio P10 che non è un granché di potenza Però si porta dietro tutta la suite MTK Quindi il Turbo Don't Load Il Task Manager Insomma tutte cose che sono già gestite da Google Secondo me in maniera migliore E per cui non serviva un'app a parte Io non capirò mai perché Mediatek non aggiorna dal 2010 La sua suite di app eccetera Visto che la grafica è palesemente quella di Android 2.2 O al massimo Gingerbread Non è solo un fattore estetico È proprio un fattore funzionale Queste app sono vecchie, malottimizzate Non sono belle da usare Vi tocca sostituire tutto In particolare quella della fotocamera Io sinceramente la detesto È brutta da vedere Non sfrutta la fotocamera Panasonic Che hanno voluto mettere su questo Mi Max da 13 megapixel Con addirittura un doppio LED flash E quindi lato fotocamera e anche soprattutto video Secondo me è bocciato Perché la qualità è appena accettabile E il software è decisamente inaccettabile Come avevo già fatto vedere con l'altro dispositivo Il P10 non se raccava così male nei giochi Nonostante la scheda tecnica non sia un granché Come vedete su il mio test Posso giocarlo comodamente in grafica media In teoria senza cali di frame Ma se devo proprio dirlo è veramente scomodo giocare con un telefono così spesso e così pesante Su Geekbench 3 abbiamo fatto un punteggio scarsino direi Certo non è paragonabile ai top di gamma Più a un medio basso gamma Che giustifica pienamente il prezzo di 150-130€ A cui potete trovarlo sui vari store Una nota positiva è sicuramente la batteria Sony Ci tiene molto Umi a specificare che sia Sony Da 4000 mAh o qualcosina di più Veramente capiente anche se la durata non si rispecchia effettivamente nelle ore di display Insomma ci sono telefoni come Redmi Note 3 Pro Che con 4000 mAh lavorano molto meglio Questo qui al massimo riesce a farvi 6 ore di display Almeno con il mio utilizzo Non ho idea sinceramente del perché Probabilmente una scarsa ottimizzazione su alcuni settori Secondo me si potrebbe lavorare un po' meglio E farla durare effettivamente quello che dovrebbe durare Dopotutto lo schermo è un full HD Abbiamo un processore Mediatek I consumi non dovrebbero essere alti E questo si rispecchia anche nel fatto che Di per sé è un telefono che scalda molto poco Non è che ci sia molto altro da dirvi Ho apprezzato il fatto che il led frontale Possa essere gestito per diverse applicazioni E che possa cambiare colore Al contrario di quello del Nubia Z11 Che ho recensito sul canale di Tariffando Che era bello sì Ma rimaneva comunque sempre rosso Come vedete non è che sono molto contento Di andare a recensire dei telefoni del genere Perché sono pienamente convinto Che abbia pochissimo mercato E che sulla stessa fascia di prezzo Ci sia di meglio Quindi non mi dilungo troppo su caratteristiche Come speaker eccetera Tanto lo sapete che la qualità Non sarà eccessa Sarà veramente bassa E francamente fossi inumi Penserei a fare un serio top di gamma E non a copiarsi da sole dispositivi Per cercare di accaparrarsi una fetta di mercato Che ormai è palesemente controllata da altri Per questa recensione io ho finito Vi consiglio se volete sapere qualcosa di più Di andare in quella dell'Umi Super Che è decisamente più definita Più lunga E che non mi andavo assolutamente di ripetere In maniera identica Detto questo Se vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima